Chiaramente peccato per una sconfitta che ci ha visto comunque rincorrere per molto tempo, facendo molta fatica, con non la dovuta lucidità necessaria. Uno guarda bene le statistiche, alla fine purtroppo la cattiva percentuale del tiro da tre punti ci ha penalizzato, perché per il resto abbiamo due punti di valutazione di più di loro, perché tra rimbalzi che abbiamo preso ma non capitalizzato, purtroppo in attacco, le altre voci sono lì, certamente giocare contro una squadra di questo calibro qua significa fare una partita che è stata buona difensivamente, o più nella prima parte forse, ma insomma mediamente buona, però difficile dal punto di vista offensivo, come un po' ci aspettavamo, vista la loro taglia, la loro presenza fisica, la loro prestanza, quindi insomma è stato un po' difficile per questo. Dobbiamo recuperare un po' di lucidità, un po' di energia, un po' di disciplina, un po' di lucidità nelle cose che facciamo e avere contributo anche se magari i minuti possono essere pochi, però dobbiamo avere contributo da tutti quanti, quelli che vanno in campo, insomma oggi siamo andati un po' troppi up and down, però giocavano contro l'Armani Milano, se non pensiamo di essere... Una partita molto combattuta credo, molto fisica, loro, l'ho detto prima di venire qui, che sono una squadra di grande potenziale, quindi atletico, tecnico, una squadra che sta facendo un campionato bellissimo, non era per niente facile, credo che i miei hanno avuto pazienza, hanno fatto una buona zona e abbiamo avuto qualche giocata in attacco fondamentale nel momento importante.